Una ragazza di 17 anni di 20 miglia è rimasta ferita in modo grave in un incidente avvenuto sull'Aurelia in località Arziglia, intorno alle 5.30 della mattina di ieri. Stando a quanto ricostruito, la giovane viaggiava seduta sul sedile posteriore di una Peugeot 307, condotta da un 19enne di Sanremo. Sull'auto c'erano altri tre passeggeri. All'altezza di via Camposanto, il ragazzo alla guida, diretto verso 20 miglia, ha perso il controllo dell'auto, forse per un colpo di sonno, ed è finito contro il marciapiede, travolgendo uno scooter parcheggiato e poi schiantandosi contro un muro. Un impatto violentissimo nel quale la 17enne è stata sbalzata contro il sedile davanti, perdendo conoscenza. Sul posto è accorso il personale sanitario del 118 con le ambulanze di ponente emergenza e Croce Rossa di Bordighera. All'arrivo dei soccorritori, la ragazza era stata portata fuori dall'auto dai suoi amici e lei non aveva ancora ripreso conoscenza. L'equipaggio di ponente l'ha trasportata in codice rosso di massima gravità all'ospedale Boria di Sanremo. Nell'incidente ha riportato un trauma cranico, fratture e un taglio profondo alla testa. La dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri.